Facciamo gol per i diritti dello sport. Insieme ed uniti per i diritti delle sportive e degli sportivi. Facciamo gol anche con le mani per i diritti dello sport. Tutti uniti contro le discriminazioni sportive. Vediamo un po' le discriminazioni sportive. Lo sport è sempre sceso in campo per lottare per avere il riconoscimento dei diritti civili. Ne parliamo a Fagnano Lona, venerdì 9 dicembre alle 21 in Aula Magna delle Scuole Fermi.